Cielo terzo e azzurro stamattina sull'aeroporto Falcone e Borsellino, niente a che vedere con quanto è successo sabato pomeriggio, nel tardo pomeriggio, quando una bomba d'acqua è caduta su Cinisi e sull'aeroporto. L'acqua è arrivata nell'area di sosta degli aeromobili che sta sopra alla sala controllo bagagli e alla sala dove ci sono gli impianti elettrici. Poi il blackout e quindi il caos con i passeggeri invitati a uscire dall'aerostazione, naturalmente disagi, 19 voli dirottati in altri aeroporti. Insomma è stato un pomeriggio difficile per i passeggeri ma anche per i vertici dell'aeroporto. Per il presidente della regione Schifani l'esigenza è fare luce su quanto è accaduto, sui problemi che hanno portato alla chiusura dello scalo. La regione è intervenuta con dei pullman dell'Ast per dare assistenza ai passeggeri costretti a raggiungere altri scali e affrontare ritardi e disagi. Stamattina è tutto regolare, voli regolari ma anche stazione tranquilla, aerostazione tranquilla con passeggeri e turisti che arrivano e partono in assoluta tranquillità. Il governatore Schifani inoltre in una poco velata polemica con la GESAP spera nella rapida nomina dell'amministratore delegato e del nuovo direttore generale dell'area tecnica. Intanto nell'aeroporto che negli ultimi anni è stato oggetto di lavori e piani di intervento ammontano oltre 68 milioni gli investimenti previsti nel piano quadriennale 2024-2027.